L'ecografia del secondo trimestre rappresenta l'ecografia forse più importante di tutta la gestazione perché permette uno studio anatomico molto accurato. L'esame della testa comprende lo studio della forma della testa, che deve essere regolare, che è regolare, dell'ossificazione della testa, che è regolare, e prevede la valutazione di alcuni parametri biometrici, il più importante dei quali è rappresentato dalla circonferenza cranica. Dopo aver eseguito questi parametri, si passa allo studio della morfologia endocranica. Qui vediamo il cervelletto, che ha una forma regolare, che ha una dimensione regolare, che ha soprattutto regolare lo spazio retrostante che la cisterna magna. Regolare pure appare la dimensione della plica nucale. Lo step successivo all'osservazione della testa è rappresentato dalla visione delle altre strutture endocraniche. In questa immagine stiamo vedendo l'atrio o trigono dei ventricoli laterali, ripieno dal plesso coriodeo e dalla regolare equestruttura, che risulta biometricamente normale sia a destra che a sinistra, con un'equestruttura normale di entrambi i plessi coriodei. Si va quindi a vedere le altre strutture. Qui noi vediamo rappresentati due talami separati dalla linea mediana e qui vediamo in basso la piccola irregolarità dell'insula. Dopo di ciò si passa allo studio del diametro della faccia. Qui vediamo il diametro bisorbitario, che è regolare. All'interno del diametro... La valutazione del diametro bisorbitario serve per valutare che ci siano due orbite, all'interno della quale vediamo la presenza di una struttura circolare che è il cristallino, sia da un lato che dall'altro. Qui osserviamo ancora la faccia, riosserviamo i due cristallini ben chiari e nell'interno vediamo che le orbite sono più o meno simili. Andiamo quindi a studiare il profilo che appare regolare e possiamo valutare la dimensione del naso che è un parametro che è talvolta utile in alcune sindrome. Lo troviamo regolare. Andiamo a vedere il profilo che è normale. Vediamo un mento che è regolare. E passiamo allo studio della faccia, della bocca voglio dire, dove vediamo un regolare labbro, ben normalmente ossificato, una bocca socchiusa come deve esserci, un mento regolare e osserviamo che la lingua non protrude all'esterno. Ribadiamo che è regolare il profilo e passiamo allo studio del torace. Lo studio del torace parte con la valutazione del situs, lo vedremo successivamente. Adesso andiamo a vedere che il cuore sia posizionato in lieve levocardia, e lo è, andiamo a vedere la cosiddetta sezione delle quattro camere che è regolare, vediamo una regolare ecogenicità dei polmoni e vediamo che le quattro camere sono regolari dal punto di vista biometrico. Si passa quindi alla valutazione del piano valvolare, abbiamo visto, ci sono stati indicati i due piani valvolari, qui vediamo il setto primo e il setto secondo interatriale che con il forame ovale che apre verso sinistra. Si passa quindi di nuovo all'osservazione della quattro camere, si vedono le vene polmonari che sboccano nell'atrio posto a sinistra, si vede che la tricuspide e la mitralica sono più o meno alla stessa altezza con la tricuspide appena appena un po' più bassa. Si passa quindi allo studio degli assi lunghi, qui vediamo l'asse lungo di sinistra o della orta che si continua con il setto che quindi non è a cavaliere. Vedendolo in moviola osserviamo anche la normale ecogenicità della valvola semilunare. Stesso discorso va fatto per il setto di destra che appare regolare, vediamo la valvola di regolare colore, vediamo la orta al centro, e vediamo la sezione del dotto. Dopo aver visto questo si passa ad osservare la cosiddetta sezione dei tre vasi, dove vediamo la polmonare, al centro la orta e dal lato opposto la vena cava. Ecco qui la sezione cosiddetta dei tre vasi. Eccola qui di nuovo i tre vasi. Riosserviamo di nuovo la sezione cosiddetta di sinistra. Vediamo la quattro camere perfetta, vediamo il setto interventricolare regolare, vediamo un regolare, lo sbocco delle vene volmonari, vediamo un cuore perfettamente regolare. Andiamo a vedere che il ventricolo sinistro è un ventricolo sinistro, il ventricolo destro è morfologicamente destro, l'atrio di sinistra è morfologicamente di sinistra, e così l'atrio di destra. C'è la possibilità di poter osservare anche, come in questo caso, che le vene cave superiori e inferiori sboccano nel latrio opposto a destra. Vena cava inferiore, vena cava superiore, estremamente chiara, lo sbocco di entrambi a destra. Osserviamo bene l'arco della orta e passiamo quindi allo studio dell'addome. Lo studio dell'addome inizia andando a vedere sempre il situs, lo vedremo dopo, andando a vedere che lo stomaco sia posizionato a sinistra e la colicisti sia posizionata a destra, che l'addome sia chiuso. Andiamo ad eseguire la biometria dell'addome, che è il parametro più importante per valutare l'accrescimento ponderale del feto. Andiamo a vedere che lo stomaco sia regolare come morfologia e lo è. Osserviamo in questa immagine anche la colicisti e l'inserzione del cordone. Ecco la colicisti, l'inserzione del cordone. Osserviamo che l'inserzione del cordone è regolare. Osserviamo che l'ecogenicità intestinale è normale se paragonata a quella dell'ossiliaco, come vediamo qui. Vediamo questa vaschetta nera in fondo che è la vescica fetale. Eccola qui. Si devono andare ad osservare i due reni. I reni sani, i reni regolari, non sono sempre facilmente evidenziabili. Ci vuole un'ottima apparecchiatura e un'ottima vista. Entrambi i reni vengono visti, vengono delimitati con dei piccoli marker per far capire qual è il rene. La morfologia è perfettamente regolare. Come è facile vedere un rene malformato, così è difficile vedere un rene sano.